Finalmente la nostra proposta di legge quorum zero è passata al vaglio vostro, dei cittadini. È stata per tre mesi sull'ex e abbiamo raccolto tutte le indicazioni che voi ci avete dato. Quindi adesso sta a noi presentarla in consiglio regionale e sarebbe una bella vittoria se questa proposta di legge passasse in consiglio perché vorrà dire che non ci sarà più il vincolo del quorum per avere un esito referendario. Chi va a votare decide. Vi invito a tutti a iscrivervi a Rousseau, a partecipare all'ex, a fare proposte di legge per poter migliorare sempre di più il nostro paese e la nostra regione.